buongiorno a tutti oggi siamo a como per presentarvi questo quattro e mezzo locali siamo al secondo piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo grande disimpegno frontalmente a noi la zona giorno sulla sinistra la cucina mentre frontalmente all'ingresso quindi la nostra destra troviamo la zona giorno separata abbiamo questo disimpegno all'interno di questo disimpegno troviamo già un armadio installato frontalmente la prima camera vedete degli spazi veramente ampi e molto luminosi nella parte centrale del disimpegno della zona notte il bagno composto di ampia specchiera lavabo sulla destra vasca bidei vicini e concludiamo con la doccia nella zona notte abbiamo anche una seconda stanza ritorniamo ora nel disimpegno d'ingresso e come visto prima ecco a voi la cucina vedete uno spazio sempre molto grande arricchita da questa porta finestra che ci fa accedere a un balcone in comunione con la zona giorno procediamo ora a visionare la zona giorno vedete questo spazio veramente magnifico molto luminoso arricchita la zona giorno da un piccolo studiolo separato ecco un'altra panoramica della zona giorno grazie a queste due porte finestre possiamo accedere al balcone in comune con la cucina ecco che possiamo vedere questo balcone veramente grande e se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti